Bisognerà capire come andare avanti, però ti dico che io sto pensando anche a una sostituzione. Immaginavo, cioè da come stava andando questo discorso, l'unico parere di oggi che mi interessava era il tuo, quindi se comunque sta venendo a mancare la fiducia. Non è una questione di fiducia, è una questione che una settimana, due settimane, tre settimane, quattro settimane, a un certo punto bisogna trovare un canale. Se questo canale non arriva mai, io, cioè il mio ruolo comprende anche chiedermi perché questo canale non arriva. Certo. E in qualunque caso devo iniziare a settare. Grazie a tutti.